Un progetto che ci vede uniti perché anche noi in questi anni sulla street art abbiamo lavorato molto, potrei citare come primo atto quello di quando divenni sindaco liberalizzando gli artisti di strada che potevano e possono esprimersi liberamente senza pagare una tassa sul suolo della nostra città, ma poi mano a mano ci si è strutturati, adesso da un po' di tempo è molto attivo e fattivo il tavolo della creatività urbana al comune di Napoli dove mette insieme non solo il comune ma tante realtà, ma ho anche annunciato qui pubblicamente questo lavoro che stiamo mettendo in campo come città metropolitana per far espandere la street art in tutta l'area metropolitana di Napoli, quindi farne una sorta di festival che possa mettere insieme giovani artisti non solo napoletani e campani ma di tutto il mondo che possano ritrovare nella nostra città ispirazione e quindi contribuire alla riqualificazione e laddove c'è degrado portare cura e bellezza.